Dopo quasi 10 ore di confronto nelle stanze del Mise a Roma è stata posta la firma all'ipotesi di accordo quadro su chiarezza, tempi e garanzie della reindustrializzazione della ex GKN diventata QFSPA dopo l'acquisizione del pacchetto azionario da parte dell'imprenditore Francesco Borgomeo. Un incontro per definire le basi per il futuro dello stabilimento di Campi Bisenzio, ha asserito la vice ministra dello sviluppo economico Alessandra Todde. L'accordo prevede un percorso di riconversione condiviso, finalizzato a rilanciare il sito produttivo e garantire la salvaguardia occupazionale. La palla però adesso passa ai sindacati, dato che la definitiva ratifica è vincolata all'approvazione del referendum dei lavoratori e all'assemblea permanente, dunque senza esito positivo non potrà esserci intesa. Nell'accordo indicate le garanzie e le modalità di realizzazione del progetto che dovrà coinvolgere e tutelare tutti i 370 dipendenti più i colleghi degli appalti, per i quali si profila un'internalizzazione. Come riportato, la vendita al futuro investitore dovrà avvenire concessione di azienda e comunque con piena continuità delle condizioni normative e salariali dei lavoratori. Definito anche il cronoprogramma, che dovrebbe portare rapidamente all'individuazione del soggetto incaricato della reindustrializzazione. Se entro il 30 agosto non dovesse concretizzarsi la riconversione, sarà la stessa QFSPA di Borgomeo a farsene carico. Definito inoltre il percorso degli ammortizzatori sociali, con il ricorso della cassa integrazione ordinaria. Infine la decisione sui percorsi formativi, che coinvolgono governo e regione e pongono l'accento sulla necessità di assumere un ruolo politico di garanzia e di controllo, non solo nel processo di riconversione, ma anche nella precedente fase di passaggio.